Che lettura può creare dei problemi? Lettura è l'atto di leggere, in inglese reading. Invece lecture può essere tradotto come lezione, di solito universitaria, o anche conferenza. Tom era immerso nella lettura di quel romanzo. Tom was immersed in reading that novel. Il professore ha tenuto una lezione sulla storia dell'Italia. The professor gave a lecture on the history of Italy.